Sogni nelle notti di mezza estate. Si conclude con un bilancio più che positivo. L'iniziativa, promossa dalla strada dell'olio extravergine Castel del Monte, ha chiuso il programma con il walking tour nel centro storico di Biceglie. Tra le tappe della camminata, anche la visita guidata nella casa Museo Giuliani, uno dei fiori all'occhiello del centro storico bicegliese. È stata la casa di Mauro Giuliani, vissuto tra fine Settecento e inizio Ottocento, chitarrista e compositore. Al termine della visita non è mancata la classica degustazione a base di olio extravergine. Feste dell'olio, degustazioni, iniziative varie. Credo che sia un buon modo per legare l'iniziativa alle tante altre. Oggi siamo a libri nel borgo antico a Biceglie che attraggono turisti, sia per la cultura che per la enogastronomia. Che ha destato nelle prime settimane l'interesse che ha mandato in tutto venduto, diverse delle iniziative, dal pescaturismo alle altre visite nei centri storici. Quindi siamo molto soddisfatti. Dopo due anni di iniziative limitate, ecco, c'era grande interesse, grande attenzione. Siamo contenti di aver contribuito alla riemersione del nostro territorio. Grazie.